Presentazione ufficiale per Alberto Martello Martelossi, il nuovo coach della basket Brescia Leonessa, raggiunto a sorpresa in vacanza dalla telefonata della presidente Graziella Bragaglio. Martelossi, 46 anni, friulano, reduce da un anno più che positivo alla Tezenis di Verona, è stato accolto dagli irriducibili tifosi davanti alla sala congressi del centro San Filippo. Un curriculum di tutto rispetto per Martelossi che si è detto a suo fatto alle situazioni dove c'è da combattere. È stata una situazione abbastanza improvvisa, nel senso che ovviamente, infatti ero in vacanza con la famiglia, ma ovviamente è molto piacevole, sorpresa piacevole e mi fa piacere poter iniziare da subito con buona determinazione, ovviamente per recuperare il tempo che abbiamo perso fino ad ora. Onestamente parlare di obiettivi quando allo Stato abbiamo, non so, uno o due giocatori, mi sembra obiettivamente eccessivo. Credo che abbiamo molto lavoro da fare per costruire la squadra, costruiremo la squadra ovviamente nel modo migliore possibile secondo le finanze e secondo anche la disponibilità dei giocatori che ci sono in giro e poi dopo faremo un po' il punto di ristrazione a tempo debito. Forte motivatore, Martelossi ora dovrà fare i conti con una situazione tutt'altro che semplice, visti i bilanci striminziti. Siamo pronti a ripartire con una nuova avventura per il basket Brescia, l'incoraggiamento della Presidente Bragaglio che assieme al Presidente del Consorzio un canestro per Brescia, Michele Pellizzari, ha confermato ad agosto l'adesione di 24 società. Il traguardo delle 30 sembra ormai soltanto questione di tempo. Dopo varie valutazioni, un allenatore che ha un'esperienza importante, un'esperienza in questo campionato direi importantissima rispetto forse a qualche altro nome, per Brescia che è una piazza che vuole tanto e desidera tanto. Noi abbiamo accontentato la città, abbiamo accontentato la società, abbiamo accontentato noi stessi con un nome direi importante. Nessun timore, ha detto la Bragaglio, ci sarà ancora il grande basket a Brescia. Ora resta da sciogliere il nodo della rosa per fare in modo che il martello non resti senza chiodi. La preparazione dovrebbe iniziare il giorno 22 o il giorno 23 e quindi saranno questi prossimi 10 giorni che saranno quelli dedicati alla costruzione della squadra con il direttore sportivo Marco Abbiati e con la società si cercheranno di mettere insieme tutti i tasselli che servono per iniziare la prossima stagione.